E valla snob a tutti i samiri e i samiri benvenuti in questo nuovo video aggiornamento sulla situazione come state? io non sono molto in forma sinceramente mi dispiace proprio dirvelo e niente oggi non ho ancora pranzato anzi è tardissimo sono tipo le tre e non ho ancora pranzato sinceramente in questo momento non me la sento anche perché non ho molta fame sono un po' stanca però è tutto normale e raccontatemi come avete passato questa domenica io l'ho passata un po' così e nulla ho mangiato prima una brioche poi ho una nausea che mi mi tormenta da da prima non so mi sento stra in colpa e ho lo stomaco che sembra molto pesante però spero sia tutto ok dai raga è solo un periodo però non ce la si fa così diciamo che questo è quello che sto vivendo in questo preciso istante spero comunque di uscirne anche perché non ce la faccio davvero più questo è quello che vi dovevo dire e nulla al prossimo aggiornamento questo è tutto